Continuiamo il nostro cammino in diretta in questo giovedì 1 febbraio 2024 e come è promesso ci vogliamo focalizzare su un santo particolarissimo. Ieri la Chiesa ce l'ha presentato in maniera forte attraverso ovviamente la liturgia, sto parlando di San Giovanni Bosco e questa mattina per approfondire alcuni aspetti della spiritualità del padre e maestro della gioventù abbiamo in collegamento Skype con noi Don Francesco Preite. Pace e gioia Don Francesco, ben trovato, è sempre un piacere. Ciao. Pace e gioia a voi, a tutti i telespettatori. Allora vorrei partire con una frase delle vostre costituzioni, il Signore ci ha donato Don Bosco come padre e maestro. A te allora il compito di spiegarci anche il senso di questa frase Don Francesco. Per Don Bosco il senso della paternità è stato fondamentale per costruire dei percorsi educativi e di accompagnamento con i giovani. Se poi pensiamo che a due anni Don Bosco purtroppo ha perso il padre, Giovanni Don Bosco ha perso il padre per una polmonite, capiamo anche la capacità e la qualità della resilienza oggi molto importante, fondamentale nella società odierna, che ha permesso a un orfano come Giovanni Bosco di diventare padre e maestro di tanti giovani. Lo ricordiamo così proprio perché ha avuto la capacità di accompagnare tanti ragazzi, soprattutto i più difficili e soprattutto quelli più abbandonati, esercitando proprio il dono della paternità perché egli stesso viveva la paternità di Dio padre e la metteva a disposizione di tanti giovani. Quindi questo grande educatore, grande uomo, grande santo è riuscito a fare un'esperienza così negativa come la perdita di un padre, a far diventare il punto di forza per la sua missione, per la sua santità, per la sua missione appunto con i ragazzi. Don Francesco, San Giovanni Bosco, profondamente uomo, quindi aperto alle realtà terrestri, è profondamente uomo di Dio, quindi ricolmo dei doni dello Spirito Santo. Come è riuscito a fondere questi due aspetti della sua vita? Quindi uomo del mondo e uomo di Dio? E' bella domanda questa e credo che la santità si incarna nell'umanità, cioè tutto ciò che è umano è degno di santità, è degno di Dio. E Giovanni Bosco, proprio perché è incarnato nel suo contesto territoriale, ricco delle sue virtù, ecco qui vediamo il luogo dove è nato Don Bosco, le colline astigiane, lui è riuscito proprio ad avere la capacità di poter incarnare la missione e lo Spirito di Dio nella missione del tempo. Quindi è stato un uomo profondamente provato anche dalla vita, ma capace di poter rispondere con le qualità spirituali, quindi l'affidamento che gli era connotato, gli era connaturale nella sua missione. Tra l'altro è interessante notare come il suo processo di beatificazione, di santificazione, quindi di canonizzazione, veniva proprio raccontato come non c'era tempo, non c'era spazio, che Don Bosco non pregava, non pregasse. Quindi ogni azione, ogni attimo della sua esistenza era collegato a Dio, era ricco della sua presenza, della presenza di Dio. Quindi non ha dato passo, non ha dato azione, se non collegato all'azione misericordiosa di Dio. Don Francesco, io mi sono scelto una frase di Don Bosco che ho fatto davvero mia, nel senso che l'ho scolpita nella memoria e penso anche, spero anche nel cuore. È probabilmente la più difficile, essere buoni cristiani e onesti cittadini. Me la sono scelta proprio la più difficile, perché a me davvero mi colpisce in maniera molto forte questo connubio che ci deve essere, questo legame inscindibile tra appunto il professare una fede e l'essere poi onesto cittadino, cioè portarla nella società civile. Voi questo impegno lo portate avanti ormai da secoli, insomma potremmo dire da davvero tantissimi anni. Come vi state approcciando anche alle diverse sfide che la società ci pone, sfide sempre nuove, sempre diverse, sempre più difficili, nel segno di Don Bosco, buoni cristiani, onesti cittadini? È proprio la capacità di Don Bosco di unire il cielo alla terra. Giovanni Bosco, quello che stiamo raccontando, riusciva a incarnare concretamente l'azione di Dio nella vita di ogni giorno, nel quotidiano. Quindi una santità feriale, una capacità di vivere il cristianesimo oltre le sagrestie, anche perché ovviamente lì dove il Signore ci chiama, che dobbiamo vivere la nostra missione, dobbiamo incarnare il Vangelo di Dio. E quindi Don Bosco è riuscito proprio a rendere reali quei valori e quelle virtuti ologali che spesso professiamo, come la speranza, la carità, la fede. La speranza per Don Bosco era educare, accompagnare i ragazzi, anche il più difficile, cioè vedere nel ragazzo più povero le potenzialità di un ragazzo santo, nel caso di Domenico Sario, di Michele Vagore. Oppure la capacità di vedere nella carità la forza propulsiva del suo essere educatore, e quindi di non abbattersi, di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. E poi la fede, cioè la lungimiranza, il vedere oltre le difficoltà, il sapere di essere accompagnati da Dio in quello che si realizza, è proprio la capacità appunto di tradurre percorsi di giustizia in percorsi di accompagnamento, di possibilità per coloro che hanno ricevuto di meno della vita. Don Bosco ha vissuto la rivoluzione industriale, quindi era un tempo di migrazioni interne nella città di Torino, nella città che era la capitale del Regno Sabaudo e la capitale d'Italia all'inizio dell'Unità d'Italia. Quindi ha avuto le trasformazioni proprio tipiche delle società moderne, all'inizio della società moderna. E quindi con tutti i problemi, e immaginiamo anche, diciamo, un sfruttamento minorile molto forte nel tempo di Don Bosco, la capacità di questo uomo, di questo santo, di farsi intermediare, di farsi sindacalista dei diritti dei minori presso le botteghe artigiane, presso appunto chi voleva in qualche modo offrire la possibilità ai ragazzi, ma senza le tutele necessarie, senza i diritti che al tempo di Don Bosco erano quasi all'inizio, se vogliamo, anzi ancora non dovevano essere contestualizzati e dovevano essere in qualche modo riconosciuti. Don Bosco è stato un precursore, se vogliamo, anche dei diritti dei minori, in un tempo in cui i minori venivano invece sfruttati e venivano in qualche modo appunto utilizzati per i propri scopi, per i propri profitti. Attenzione ai giovani, attenzione ai più piccoli, le parlava appunto di accompagnamento, di educazione. Come il servizio ai giovani si concretizza oggi in quello che fate voi, Salesiani, che portate avanti l'opera di San Giovanni Bosco? Ecco, l'opera salesiana, l'opera di Don Bosco, oggi viene vissuta a più livelli e abbiamo ovviamente diverse possibilità. Nel caso specifico io mi occupo dei salesiani in periodo sociale, quindi tutte le azioni educative salesiane che riguardano questo mondo, questa parte importante della nostra realtà. Sappiamo oggi che la questione sociale è una questione che impegna tantissimo, se pensiamo che ci sono 6 milioni di poveri in Italia e quasi 1 milione e 400 mila di minori in povertà. questa situazione è dapprima sempre più portata all'attenzione del Papa Francesco. In questi dieci anni del suo Magistero la questione sociale è diventata centrale nel Magistero Ecclesiale. E anche come salesiani ci siamo interrogati in questi anni come poter sempre più aiutare i ragazzi con le capacità e le possibilità di oggi. E questo ci ha portato a organizzare il nostro lavoro attraverso 5 anni di intervento. Ecco, abbiamo chiamato questa organizzazione organizzare la speranza. E come diceva un grande santo pugliese, Don Torino Bello, non basta, non bisogna limitarsi a sperare, bisogna organizzare la speranza, cioè offrire le condizioni concrete per poter liberare i poveri dall'accio della morte, della sofferenza, dell'impossibilità. E noi organizziamo il nostro lavoro secondo degli ambiti. Uno degli ambiti è il servizio civile. Col servizio civile accogliamo circa mille giovani in Italia e una settantina di giovani all'estero, soprattutto in Spagna, a nostre canse salesiane. E in un tempo in cui purtroppo i conflitti e le guerre si fanno molto forti, l'accompagnia dei ragazzi, la cultura del volontariato, della pace, della solidarietà, è fondamentale per noi salesiani. Così come un'altra area di intervento è il tema dei migranti. Facciamo opera di accoglienza, di inclusione, di inserimento sociale e lavorativo per i migranti, soprattutto in questi ultimi tempi abbiamo accorto tanti afghani e tanti ucraini nelle nostre case, nelle nostre realtà salesiane. E poi abbiamo il mondo della tutela dei minori, i ragazzi che sono affidati dai tribunali, oppure i ragazzi che scappano dai paesi in guerra, dai paesi sottosviluppati, per poter sperare e poter in qualche modo vivere in un paese più libero, più democratico. E quindi i minori saranno accompagnati. Abbiamo anche l'altro ambito di intervento che curiamo, quindi abbiamo centri diurni, case e famiglie, strutture di prevenzione educativa, perché l'azione preventiva per noi è fondamentale, molto più che la repressione. E poi abbiamo l'ambito dell'inserimento sociale e lavorativo, quindi il fenomeno dei NIT ci interpella molto. In Italia abbiamo il più alto tasso di NIT in Europa, di Europa, e questo ci interroga su come accompagnare, come aiutare questi ragazzi a inserirsi nel mondo e nella società. E poi abbiamo la grande area della formazione rete associativa, quindi il curare, gli educatori, i coordinatori di opere sociali, per noi è fondamentale, perché la formazione rende qualità all'azione educativa. E quindi questo è un altro intervento che per noi diventa sempre più necessario. Davvero una forma di assistenza, direi, a 360 gradi, quella di cui voi vi occupate nel nome di San Giovanni Bosco. Allora, Don Francesco, io ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi, davvero ci ha aiutato un po' a capire come San Giovanni Bosco vive nel 2024 e lo fa attraverso le vostre mani, le vostre opere, che sono davvero tante e che sono di aiuto a tanti. Grazie, grazie di cuore. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Ciao Don Francesco. Ciao Don Francesco, pace e gioia. Allora Paola, prima che mi vada via la voce, tocca a te. La pubblicità, perfetto. Allora Leonardo, prendi fiato. Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi avremo modo di aprire un'altra importante pagina di santità, ma non solo. Restate con noi. Grazie.